Grazie a tutti, ora per la cattegoria 61 kg Pro, a la right corner del team Balzano, Martino Di Donna, e a la parte blu, del team Centurion Club Manduria, Laestia Pichieri. Per la cattegoria 61 kg Pro, all'angolo rosso per il team Balzano, Martino Di Donna, all'angolo blu per il Centurion Club Manduria, Laerte Pichieri. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. forse dai forse dai 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 Wednesday la testa 别 la mano sotto Adesso, adesso capisci! Ti prendo la traccia! Chiaccalo! Chiaccalo! Girola! 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 Chiaccalo la gabbia! Chiaccalo la gabbia! Chiaccalo la gabbia! Vai alla gabbia! Controlla quella mezza guardia! Chiaccalo! Tieni quella gamba di! Chiaccalo la gabbia! Chiaccalo! Chiaccalo la gabbia! Chiaccalo la gabbia! Chiaccalo la gabbia! Passati l'occhio! Quattenti! Chiaccalo la gabbia! Chiaccalo la gabbia? Chiaccalo la gabbia! Quando colpisci colpisci a marchio! Gira la gabbia, gira la testa, lo devi girare, lo perdi. Gira la gabbia, bravissimo, gira la testa, la mano destra, bravissimo, bravo! Calma di me! Calma di me! Ma adesso alla vento! Diventalo! Calmati! Guarda Martino! Vai Martino, vai Martino. Vai Martino, schiaccia la parete Martino, schiaccia la parete Martino, attenzione Leandro, tieni le mani giù. Bravo Martino! Bravo Martino! Grazie! Vince per stop medico alla seconda ripresa la RT Pichieri!